Da sempre il bitume è impiegato dai professionisti per impermeabilizzare. Da oggi lo puoi utilizzare anche tu, grazie a Silap, bitume liquido in bombola. Le infiltrazioni nei tetti e nelle coperture possono costarvi caro. Tubi e grondaie che perdono causano danni seccanti. Silap è la soluzione più semplice per sigillare immediatamente in modo rapido e durevole. Silap sigilla all'istante fessure e fori bloccando tutte le perdite. Ripara in maniera definitiva e assicura una tenuta perfetta resistente per anni. L'innovativa formula di Silap eroga uno strato bituminoso impermeabile su qualsiasi superficie. Una volta asciutte, le superfici trattate possono essere anche pitturate. Facile da usare, adatto per ogni tipo di riparazione. Immerso prolungatamente in acqua, Silap mantiene le sue proprietà impermeabilizzanti. Resiste al calore e al freddo estremo. Rimanendo sempre interamente flessibile. Neanche le condizioni climatiche più estreme riescono ad intaccare la sua eccellente capacità impermeabilizzante. Per la manutenzione, l'hobby, l'auto, la casa, il giardinaggio e altro ancora, su qualsiasi superficie Silap impermeabilizza e blocca le perdite. Silap, il riparatore bituminoso in bombola, un prodotto professionale alla portata di tutti.